Il caos è iniziato già ieri a 24 ore dall'apertura della piattaforma di iscrizione al vaccino per i pazienti fragili. Lo scontro è nato tra medici di base regione Campania. I camici bianchi ieri sostenevano di non essere in possesso di comunicazioni da parte dell'ente regionale per l'inserimento dati dei loro pazienti. Ma ieri sera il presidente De Luca con una nota ha precisato che spetta proprio ai medici di assistenza primaria l'iscrizione. Manco a dirlo, questa mattina è cominciato il caos. Sistema in tilt e medici oberati tra telefonate e richieste da parte dei pazienti. Ho impiegato circa 25 minuti per prenotare un paziente. Per cui l'invito che io rivolgo ai miei pazienti ma un poco a tutti quanti e a tutti quanti gli altri di non intasare troppo con richieste a volte insufficienti dal punto di vista della condizione patologica perché ovviamente il tempo a disposizione è veramente molto scarso. Al momento abbiamo solo notizie di famiglie che ci segnalano l'impossibilità di effettuare la procedura. Denuncia Tony Nocchetti, presidente dell'associazione Tutti a scuola, che si occupa dei diritti dei disabili. Stiamo registrando, prosegue, che alcuni medici non hanno le credenziali. Altri rispondono che non è ancora possibile la registrazione. Altri ancora rispondono che non fanno la procedura. Il risultato, ad ora, è che nessuna famiglia è riuscita a portare a termine la procedura per far vaccinare i propri cari in condizioni di fragilità. Intanto in Campania sale il numero dei decessi e dei contagi. 65 le persone morte nel giro di 24 ore e 2.656 positivi registrati con un tasso di contagio pari all'11,84%.